Bassano ha bisogno di un teatro. Su questo non ci piove, anche perché il Comune spende ogni anno 55 mila euro per l'affitto degli spazi privati per attività varie. A oggi infatti gli spazi teatrali in città per quanto riguarda il pubblico si riducono a 632 posti del teatro all'aperto al castello e a 99 posti della chiesa di San Bonaventura, attualmente in ristrutturazione. Per quanto concerne invece il privato ci sono i 440 posti del teatro Remondini e i 600 della sala da ponte. Niente di lontanamente simile a quello di cui avrebbe necessità ora Bassano con il suo immenso bacino di utenti e la sua storia culturale. Motivo per cui tornano alla ribalta le proposte già viste negli ultimi vent'anni. Viste e parcheggiate, vien da dire, in garage per vari motivi come l'ex polo Santa Chiara e il park Le Piazze di cui si è parlato a più riprese fra l'inizio degli anni 2000 e l'epoca Poletto. Proposte che sono contenute in una relazione da 40 mila euro affidata dall'amministrazione Pavan a uno studio specializzato. Anzi sarebbero contenute perché si tratta di indiscrezioni che finora, se non fuori microfono, nessuno dell'amministrazione ha mai confermato. Ma nessuno le ha mai smentite. E allora le prendiamo per buone come prendiamo per buono il fatto che la relazione boccerebbe definitivamente l'astra come a teatro cittadino. Peccato che un'altra relazione contenga invece alcuni punti decisamente contrari a questa strada. Eccola qui. Si tratta della relazione inerente al quadro esigenziale per il futuro di Bassano fatta redarra dall'amministrazione Pavan agli uffici comunali. 15 pagine che ripercorrono le alterne fortune dell'astra e i possibili scenari futuri con alcuni punti fermi. Ad esempio il fatto che i vincoli molto stretti che gravano sull'edificio di Viale dei Martiri limitino ogni sviluppo a una sola destinazione teatrale. E gli uffici avvertono. Una riflessione sul futuro dell'edificio deve prendere in considerazione la salvaguardia e un futuro assetto dell'area particolarmente delicata su cui insiste. E poi due righe che chiudono virtualmente i giochi. Il teatro astra dicono gli uffici somma tutte le caratteristiche. Quali? Quelle di una casa del teatro e dello spettacolo per raccogliere l'eredità immensa di questi ambiti a Bassano e rilanciare il perifuturo. E quindi che si fa?